Un saluto dal Tg della Mobilità nell'area del Circo Massimo prosegue la stagione estiva del Teatro dell'Opera. I prossimi spettacoli sono in calendario tutte le sere fino al 13 agosto con la sola pausa di lunedì 10. Dalle 20 e 30 saranno possibili chiusure al traffico sempre dalle 20 e 30 sino a mezzanotte circa. Deviazioni per i bus, in particolare le linee 81, 118, 160, 600, 28 e 715, solo in direzione centro, da Via del Circo Massimo proseguono per Via della Greca, Piazza Bocca della Verità e Via Petroselli, poi normale itinerario. Nelle domeniche del 9 agosto le linee 51, 85, 87 da Piazza Porta Capena proseguiranno per Via Leventino, Via del Circo Massimo, Via della Greca, Piazza Bocca della Verità e Via Petroselli. E tutto appuntamento alla prossima edizione.